Alla prima vera occasione colpisce la squadra di Oscar Brevi e l'Inter subisce il gol dell'1-1 Nizzetto ha approfittato di un errore della difesa nerazzurra ha stoppato il pallone di petto e poi col sinistro scaricato un tiro molto potente superato dalla traiettoria a Kivu Nizzetto la controlla, col sinistro nulla da fare per Castellazzi Gran gol davvero Forse la prima indecisione della difesa nerazzurra che insomma per tutto il primo tempo era stata perfetta e invece qui ha preso il tempo bene a Kivu Nizzetto